La solitaria battaglia del gondoliere Marco Zanon per una maggiore trasparenza delle tariffe basta fango sulla categoria. È stata investita e uccisa mentre rientrava a casa con delle amiche a spinea muore Angela Marmino, aveva 72 anni. Rissa tra autotrasportatori polacchi alla bazza il più giovane dei due finisce in ospedale con un polmone perforato arrestato l'aggressore. Per tre volte gli hanno rotto la vetrina ma le intimidazioni nei confronti del titolare del palco non finiscono qui tra imbrattamenti e piedi di porco lasciati all'ingresso. Enesimo stop per Logovia sul ponte di Calatrava, AVM sta pensando di lasciare la gestione al comune. Giancarlo Galan ricoverato in ospedale, scoppia la polemica sull'autorizzazione all'arresto della Camera, il voto rinviato. Continua a piovere sul veneziano Amarano, automobilista resta intrappolato nell'auto nel sottopasso allagato di Sagia, Lido e Pellestrina. Buonasera, ben ritrovati, questo è TG Venezia Maestre, puntuale come sempre per darvi tutte le informazioni e le notizie da Venezia e provincia. Iniziamo andando in centro storico, parliamo di gondole e gondolieri e vi raccontiamo della singolare protesta di Marco Zanon che sta facendo di tutto per rendere più trasparenti possibili i prezzi dei giri in gondola. Tariffe delle gondole visibili e chiare per tutti. La battaglia per la trasparenza è portata avanti in solitaria dal Pope Marco Zanon che ha affisso un cartello sulla sua imbarcazione con l'indicazione dei prezzi. Un gesto racconta su Facebook il gondoliere apprezzato dai turisti e da molti veneziani ma purtroppo non da alcuni colleghi. Qualcuno ha anche parlato di un giorno di punizione in caso Zanon si rifiutasse di rimuoverla ma il Pope non si è fatto intimidire e ha proseguito con la sua iniziativa. Inizialmente la mia idea era quella di metterla all'interno della barca come si usava tanto tempo fa. Infatti gli anni 50-60 le tariffe erano incorniciate, appoggiate sui gradini da pura della barca e questa per me era un'ottima idea perché il cliente anche da seduto aveva davanti ai suoi occhi la tariffa. Adesso ho dovuto esporla così grande sopra la pura perché il regolamento comunale mi tollera solo questo modo qua. Quello che vorrei far capire, che ancora mi critica, spiega il gondoliere, è che la mia è una battaglia a favore della categoria per mettere le cose in chiaro anche di fronte a comportamenti magari legali ma comunque discutibili. C'è sempre qualche furbetto, c'è il furbetto dell'accompagnatore turistico che spesso sovraccarica le tariffe, sovraccarica il prezzo. Ci sono agenzie che logicamente caricano molto il prezzo anche se sarà legale però in molti casi caricano troppo. Non si può chiedere 30 euro a persona quando sappiamo benissimo che 6 persone dentro una gondola pagano 80 euro e solo per strappare dei biglietti e indicare dove devono andare a fare il servizio guadagnano 100 euro sopra. Su questo tipo di iniziative noi gondolieri non abbiamo alcun controllo, conclude Zanon, almeno che sia chiaro fino in fondo ai turisti dove vanno a finire i loro soldi. L'importante è che il cliente sappia effettivamente quando si siede in gondola cosa costerebbe realmente il prezzo della gondola. Questo secondo me è un servizio che dobbiamo dare al cliente. Visto poi a tutte le varie situazioni, le critiche che abbiamo avuto, anche il servizio di stessi della notizia che sicuramente non ha fatto bene alla nostra categoria. Messaggio chiaro, anzi chiarissimo quello di Marco Zanon. Adesso apriamo la pagina della cronaca con un incidente mortale a Spinea, costato la vita a una 72enne, si riaccendono le polemiche in città per quanto riguarda la sicurezza stradale. Colpo fortissimo. Quando sono uscito ho visto due signore qua che urlavano, chiamavano aiuto e la signora è arrivata a terra, la vedete con la macchia all'oscura là. Urlavano che l'auto è fuggita e fuggita, infatti è tornata dopo circa 15 minuti penso. Ah non si è fermato subito? No, 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 ha fatto il giro penso e dall'altra parte poi si è fermata là. Il racconto di un testimone ha corso per prestare soccorso. Angela Marmino, 72enne di Spinea, è morta in via Prati, centrata da un'auto, guidata da un giovane. La vittima stava rientrando a casa con delle amiche, l'impatto violento non le ha lasciato scampo. Inutile l'arrivo dei soccorsi. I sanitari del SUEM hanno tentato di rianimarla, ma l'anziana è spirata pochi minuti dopo, probabilmente a causa di un'emorragia interna. La donna è stata caricata sul cofano del mezzo sbattendo la testa contro il parabrezza per poi ricadere sull'asfalto. Residente in via Bolzano, in paese, la conoscevano tutti come Lilli. A Spinea si accende la polemica sulla sicurezza stradale. Molti cittadini raccontano, le auto qui vanno troppo forte e sul marciapiede la sera è impossibile camminare. Vedi il percorso? Secondo lei è un percorso che si può camminare di sera questo qui, su Pagliolo va bene, ma di sera. Ma l'avete fatto presente magari al sindaco? Sì, ma non ci sono soldi qui a Spinea. Non ci sono soldi da spendere. Corrono come pazzi, corrono troppo. E quindi avete paura anche voi di uscire di casa? Sicuramente, quando dobbiamo uscire sia a piedi e anche in macchina abbiamo paura. Questo incidente tremendo che ha costato la vita una signora Spinea non è l'unico purtroppo in provincia. Con il nostro tigiline aperta di questa settimana vi chiediamo di segnalarci le strade pericolose. Potete dirci la vostra con un sms al 340-321-8770 oppure con una mail a Venezia Chiocciola, reteveneta.it. Aspettiamo le vostre segnalazioni. Adesso parliamo di un fatto grave avvenuto a Mestre, continue intimidazioni nei confronti del proprietario di un locale, di un bar. Vediamo. Dopo aver chiuso il locale più o meno a mezzanotte e mezza, però essendo ancora dentro per cenare tra noi che l'avevamo lavorato, che una volta usciti, mezz'oretta dopo, abbiamo trovato una sorta di pacco regalo in periodo di natalizia, una scatola, letteralmente una scatola da scarpe, con sorpresa dentro un tondino, diciamo una piccola spranga di ferro, come a voler fare intendere, guarda che qualcosa insomma. L'inquietante episodio ha provocato l'intervento della polizia e procurato una notte insonne al titolare del bar, rimasto nel locale fino a mattina. Ma l'aspetto più preoccupante è che il ritrovamento è avvenuto a meno di 24 ore dall'ennesimo atto vandalico nei confronti dell'esercizio noto alle cronache per la celebre multa al calcio balilla. La notte precedente infatti la vetrina era stata presa a sassate per la terza volta in poco tempo. Tra tagli agli ombrelloni, imbrattamenti con l'inchiostro all'insegna e tentativi goffi di spaccare la vetrina, a mio parere e anche a parere delle forze dell'ordine non certo per una effrazione. Ormai sono diversi gli episodi. Nessun sospetto da parte di Ceolin sul responsabile o irresponsabile di questa persecuzione. Non ha mai ricevuto minacce esplicite, racconta l'esercente noto in città per il suo impegno civico. Il locale ospita infatti quasi quotidianamente ribattiti e incontri sui temi caldi della città. Forse è questo, dare fastidio a qualcuno ipotizza, ma le ragioni rimangono un mistero. In un mondo così isterico dove vale tutto dall'imbrattamento delle pareti per difendere presunti diritti al venire qui a disturbare anche attraverso un tentativo di spaccata o non spaccata di una vetrina una persona che semplicemente fa e dell'attività commerciale del suo lavoro. Non lo so in che maniera possa io disturbare questa o queste persone che evidentemente non trovano di meglio da fare che farmi intendere che non sono loro simpatico. L'ovivia del ponte di Calatrava è ancora ferma. Si pensa addirittura alla rottamazione. La capsula rossa appesa sul lato del ponte della Costituzione inaugurata nel 2009 è praticamente mai entrata in funzione continua a dare problemi e ora AVM che la gestisce potrebbe rinunciare proprio alla gestione per restituire tutto nelle mani del comune. Perché? Perché i costi di gestione sono astronomici e AVM non riesce più a garantirli. Quindi l'ovivia del ponte di Calatrava va verso la rottamazione, un'opera che può essere considerata uno spreco di denaro per quanto è costata e per quanto poco è utilizzata in questo momento. Adesso parliamo di Giancarlo Galan, l'ex presidente del Veneto, è stato ricoverato nella notte in ospedale, ha rinviato il voto della Camera per quanto riguarda il Via Libera all'arresto. L'ex governatore del Veneto Giancarlo Galan è ricoverato in ospedale ad Este e così proprio in queste ore è stata accolta la richiesta di rinvio della votazione dell'Aula della Camera sulla richiesta di autorizzazione all'arresto dell'Onorevole di Forza Italia finito nello scandalo Mose, voto che doveva tenersi proprio domani. Due giorni di rinvio sono stati concessi dalla presidenza di Montecitorio proprio a causa del ricovero in ospedale ad Este nel reparto di cardiologia dell'ex governatore. La direzione dell'USL 17 ha confermato che Galan si trova in ospedale da sabato sera quando è stato portato nel nosocomio dalla moglie Sandra per un improvviso aggravamento delle sue condizioni di salute proprio a pochi giorni dal voto alla Camera. Il ricovero, è scritto nella nota dell'USL 17, si è reso necessario per procedere agli accertamenti e alla terapia connessi alle condizioni cliniche del paziente. Ad inizio settimana Galan si era fratturato una gamba cadendo in giardino mentre stava potando delle piante. La ferita aveva provocato anche una leggera tromboflebite che già lo aveva fatto ricorrere alle cure mediche. Sabato sera un peggioramento improvviso che sarebbe legato sempre a complicanze circolatorie visto che l'ex governatore soffre di diabete e pressione alta. Gli avvocati si sono così affrettati a chiedere il rinvio alla Camera. Richiesta accolta. Il voto che si doveva tenere domani pomeriggio alle 17 dunque è stato rimandato a giovedì mattina alle 11. Si voterà dunque giovedì salvo nuove sorprese. Adesso parliamo dello sfogo del governatore attuale Luca Zaia. In Veneto il turismo è un comparto strategico per l'intero sistema economico perché può contare ogni anno su 62 milioni di presenze e un fatturato di 11 miliardi di euro. Non possiamo permettere quindi che questo patrimonio venga danneggiato da un'icona sbagliata messa sopra i nostri territori dai bookmakers del meteo che con le previsioni sbagliate rischiano di mettere in difficoltà non solo gli operatori ma anche moltissimi lavoratori stagionali. Il presidente del Veneto Zaia torna ancora una volta a puntare il dito contro i siti specializzati nel meteo nelle previsioni perché per domenica avevano previsto brutto tempo invece sul litorale splendeva il sole. Zaia arrabbiatissimo quindi ha diramato una nota ha detto chi scommette sul turismo rischia di far perdere migliaia di posti di lavoro e di mettere in difficoltà il sistema economico del litorale. Il braccio di ferro tra gli esperti meteo e il governatore ma soprattutto gli addetti ai lavori, gli albergatori e i titolari degli stabilimenti balneari continua ormai da diversi mesi. Loro tra le altre cose però stiamo parlando degli esperti purtroppo continuano a sbagliare. E adesso la cronaca, una rissa rischiava di trasformarsi in tragedia, ha coltellato un autotrasportatore polacco, è stato salvato all'ospedale di Mestre. Due coltellate al costato, una raggiunge il polmone che collassa. Un camionista polacco è stato salvato in extremis all'ospedale dell'Angelo di Mestre dopo essere stato aggredito da un collega connazionale nell'area di servizio della Bazzera lungo la tangenziale. I due, complice l'alcol, si sono scontrati dopo aver mangiato assieme domenica sera. La furia cieca del più anziano si è scatenata all'improvviso. Ha estratto il coltello da cucina e ha ferito il ragazzo, che in un primo momento si è rifugiato nel suo camion per poi chiedere aiuto a un altro camionista. Trasportato in ospedale d'urgenza, è stato salvato dai chirurghi. L'aggressore, che dopo l'accoltellamento era andato a dormire come se nulla fosse accaduto nella cabina del suo tir, è stato fermato dai carabinieri. I militari l'hanno rintracciato, notando una chiazza di sangue poco distante dal suo bilico. È stato arrestato. L'accusa è pesante. Tentato omicidio. E ora altre notizie di cronaca dalla provincia, con il maltempo che purtroppo continua a provocare disagi. Mira. Lunedì difficile per quanti si sono dovuti mettere al volante nella zona, soprattutto a Marano. Troppa acqua in troppo poco tempo. I due sottopassi di via miranese sono andati in tilt per la pioggia. La situazione è precipitata alle 6 del mattino, quando un'auto è rimasta intrappolata all'interno del sottopasso principale. Il malcapitato automobilista prigioniero è riuscito a scendere dall'abitacolo, ma sul posto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, i quali hanno trainato all'esterno il mezzo. Disagi e allagamenti si sono registrati anche a Lido e a Pellestrina. Tritignano. La banda del buco continua a colpire. Non si contano ormai i casi di razzie perpetrate sempre con lo stesso modus operandi dai predoni. Un piccolo foro in prossimità della serratura della finestra ed il serramento viene messo K.O. Dopodiché, l'incursione nell'abitazione, i malviventi rovistano in cassetti armadi in cerca di qualcosa di valore da trafugare. Questa volta, a finire nel mirino dei delinquenti, è stata una casa di via Lotto, rubata una borsa e un iPad. Chioggia. Polizia, guardia costiera, guardia di finanza, carabinieri e agenti della municipale hanno passato al setaccio il litorale di Sottomarina. Alla ricerca non solo di venditori abusivi, ma anche di eventuali stranieri non in regola con il permesso di soggiorno. Alcuni ambulanti alla vista delle forze dell'ordine se la sono data a gambe, lasciando a terra in tutto 24 borsoni di merce, tutta requisita. In tutto sono stati 17 gli individui identificati. L'unico a finire nei guai è stato un 25enne originario del Bangladesh, clandestino. È stato multato ed espulso. Spinea, disagi lunedì mattina per un incidente che poco prima delle sette ha coinvolto cinque automobili sul passante. Una maxicarambola che ha causato solo un ferito lieve. Improvvisamente, per cause ancora al vaglio della polizia stradale, l'urto tra due veicoli ha poi coinvolto anche altri tre mezzi. Inevitabili code e rallentamenti alla circolazione con i pendolari costretti a fermarsi per diverso tempo. Ricordiamo che il prossimo weekend chiude il passante per 24 ore per permettere dei lavori al casello di Martellago, passante chiuso dunque dalle ore 20 di sabato 19 luglio alle ore 20 di domenica 20 luglio. La programmazione adesso con Iceberg questa sera alle 21.05 in diretta su Rete Veneta. Ospiti della trasmissione Maria Stella Gelmini, Francesco Speroni, Gianfranco Librandi, Angelo Todaro e Carmela Rozza. È tutto per quanto riguarda questa edizione di CG Venezia Mestre. Io vi ringrazio per la vostra cortese attenzione e per essere state in nostra compagnia. Vi auguro una buona serata. Ci vediamo presto. Grazie.